Per tutto gioco intendo la considerazione del musical come un rivieto, come un passaggio, una chicana invece di fare la strada dritta verso il consolidamento della carriera e invece scarpe, anfibi, scalini rotti, forza, febbre, ma bisogna sempre andare in scena. E' una lezione di vita pazzesca, perché se io ho un concerto mio e non sto bene, posso anche annullare, ma quando ci sono 36 persone che contano sotto la sua, la tua parte la devi fare perché tu possa. Assolutamente, assolutamente. E anche vedere tanti ballerini, perché poi c'erano acrobati, che magari si ferivano, che strappati, cioè questi, pagati molto poco rispetto a me e ad altri, cioè ma che veramente con due palle, certo. Non c'è un passo. Senti, prima io vedo qua una cosa che voglio, vorrei, che non obblichiamo nessuno, che vorrei che tu eseguissi, però prima vorrei farti una bastardata. Oh! Perché noi, chiunque si accorgi l'onere, il rischio di salire qui, su questo che non è neanche un palco, sa che qualche un boscadina c'è, quindi lui cerca di dietro perché non c'è la cosa che sta cercando. Così non lo so parlare... Non dovremmo fare neanche la cizione di Valerio Scoan. Ma visto che fanno la cazione, molti arabi, giochi, sagefe che... Mah, sì sì, se freddo, poi le per la vovola o valore nell'acqua, eh. Serti... e... magari. Coltico, quasi... Qualcuno più tem Nurse. È... L cover e le scar? See, l'avore di sconda? L'avore di scam? Le firme sul gomito. Siccome questo è un gioco nel quale bisogna volersi bene e, come hai fatto con Elisa, bisogna sempre dare una mano, darsi una mano, io ricordo che ci fu anche un'altra bella cosa, un altro bel duetto, X Factor 2, con un altro concorrente, virgolette, una canzone fatta insieme a un signore che occasionalmente è già lì. Sì, però non è meglio, diciamo, questa è la postura, mi sa che dicevamo quella, e quella è la postura. Gariere Magro, questa è l'imboscata perché poi ridi, questa è un'imboscata, è un piacere, è un piacere, è un piacere, è un'imboscata, è un piacere. E ora dire, non mi dobbiamo un caffè. No, 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 no. Ma con quella, secondo me è meglio, ci metti i frutassi. Ma se, dove è il carro? Cosa facciamo? Beh, Carole King. Carole King? Carole King. No. Perché è un belissimo, è un journalism. Bellissimo. La firmata che Capallà è Fio Zanotti. Sì, Capallà Domenico Zanotti. Capallà che è autore di molte cose intorno a... Sì, 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 è un amico. Cioè, qui tu e Papavodira vede in comune una cosa? Cioè, tu e Papavodira vede artisticamente in comune una cosa? Papavodira. purtroppo non posso allora ma tanto lui è bravissimo come la fama ma io che c'hai ma meglio che c'hai non lo sai? lui lo sa lui lo sa e 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